no 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 no, non devo venire qui ah si giusto 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 oh all'inizio no 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 ma il mio guarda ma non si è inuguale ma non si è inuguale non si è inuguale non si è inuguale Un po' di cordine, un po' di cordine, un po' di cordine Scusa, un po' di cordine Grazie per aver guardato il video. è strano filmare da qua e non te la resti niente grazie 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 e grazie Grazie a tutti. 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 a tutti.